Questo tribunale condanna la vittima alla ghigliottina, imputazione e rottura di coglioni perpretata ai danni del barone Parsi Falbezzi, figlio di donna Clotilde e del generale Augusto Parsi Falbezzi È stata una disgrazia, non riesco a immaginare di non averlo più con me Complimenti Signorini, mi rispetto per la scompassa Ferma zitto Storpi e strunzi Mamma, io e te stiamo bene insieme ora, non credi? È inutile che ci prendiamo in giro Ti rendi conto, ma se va male sono fottuto È l'ultima speranza che mi è rimasta Alzai Su, lascialo Lascialo, ho detto Senti, te la faresti questa Ma i preti pensano a queste cose I preti, i rappresentanti di Dio, non possono avere difetti fisici Lo sai, lo hai studiato Brunite vorrebbe che ti levassi i pantaloni e magari le mutanti Visto che serve mia madre e Parsifal, se te lo ordinassi dovresti renderti utile anche a me, non trovi? Allora vediamo Come prima prestazione una cosa facile, un parere Ti piacciono queste mutandine? Povero bambino, gli è stato parlato più del diavolo che di Dio Che cosa sei venuto a fare? Potevi anche restare a Tolosa Non abbiamo più bisogno di te ormai Vattene! Potevi anche restare a Tolosa Non abbiamo più bisogno di te ormai Potevi anche restare a Tolosa